Ancora due settimane al 50% e poi la quota di studenti in presenza potrà salire fino al 75%, sempre che i contagi non tornino a crescere. È l'orientamento del prefetto di Milano Saccone dopo il confronto settimanale su scuole e trasporti. Nonostante il passaggio in zona gialla nei primi sette giorni di febbraio, a Milano e provincia i dati sui casi di Covid alle superiori sono stabili. Anche per quanto riguarda l'uso dei mezzi non sono emersi particolari problemi. La fascia oraria più critica è sempre quella dalle 8 alle 9 del mattino, ma a muoversi sono soprattutto impiegati, negozianti e non studenti. Domani il prefetto incontrerà il direttore dell'ufficio scolastico provinciale, Bussetti, e i presidi per chiedere loro di valutare un incremento graduale delle presenze fino al 75%. A vigilare sulla riapertura anche le associazioni di genitori, il comitato Priorità alla Scuola nel pomeriggio ha tenuto un presidio davanti a Palazzo Marino per chiedere tamponi rapidi negli istituti. Grazie.